bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono maullo 941 e oggi nuovo episodio della nostra serie minecraft signori allora se vedete qualche cambiamento diciamo della mia armatura e anche dell'inventario che non ho più gli strumenti di pietra è perché sono morto signori cosa poteva essere successo a cosa che poteva esserci successo semplicemente questo siamo morti nella lava perché ero andato nel nether a cercare di prendere la soul send per cercare di fare un ascensore più veloce qui a casa nostra con l'acqua e tutto l'ambra tanti cose carine solo che a colpa di un lag mentre ero che camminavo vicino alla lava siamo caduti giù e stiamo morti come è giusto che sia signori come giusto che sia per un lag del cavolo per non dire altro siamo morti male cosa facciamo in questo episodio signori nell'episodio di oggi andremo a fare due cose importanti ovvero l'ingudine di contenza mettiamo subito a cuocere tutto quanto di ferro e poi faremo una piccolissima una piccolissima una piccolissima farm di lava dici a cosa ti serve la farm di lava la farm di lava signori mie mi serve per sostituire questo carbone così non lo consumiamo tutto per cucinare che poi che lo sostituiremo anche con la farm di kelp perché sì signori ho visto che da qualche parte intorno a me sono due cose molto importanti ovvero il mare che non so se in quella direzione o in quella direzione o in qualsiasi altro tipo di direzione e c'è il kelp che poi da qualche parte qui nell'isola faremo anche la farm di kelp in modo tale da poter da poter ottenere in un combustibile però e poi c'è una un una miniera diciamo in che di no da quel lato da quella della dovrebbe esserci una miniera perché essendo morto sono andato a cercare del ferro per recuperare tutto quello che avevo perso e signori miei cerca che cerca ho trovato una miniera e anche un dungeon di di scheletri quindi i prossimi episodi si preannunciano molto molto interessanti allora dove lo mettiamo la nostra bellissima la nostra bellissima in cui di meglio dire di metterla in questa zona di qua in questa zona qua prima allarghiamoci un pochino con il legno che ovviamente andremo utilizzare questo di qua che tanto abbiamo gli alberi che si che lavorano per noi abbiamo quella piccola farm di alberi che non è niente male anzi facciamo da recuperiamo tutto questo lo so solo 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 sto spaccando con le mani fino alla visione di fino a ieri avevamo una scena una cetta una cetta di ferro adesso siamo a mani nude signori ma devo conservare un attimino di di ferro perché dobbiamo farli in culine poi con calma vedremo se abbiamo altro ferro per poterci fare anche gli strumenti ovviamente mettiamo i blocchi i blocchi normali i blocchi normali perché con però che con le slab non compaiono i vari mostri però con i blocchi normali poi posso mettere le decorazioni sotto che sono più carine allora io direi di allargarci in questa direzione di qua così fare un quanto spazio possiamo andare a prendere di qua siamo già chiusi ok intanto mettiamo allargiamoci di due di qua così velocemente rapido e in dolore ok così ci siamo così abbiamo fatto il nostro bellissimo quadrotto e poi io direi ma io direi che direi che potremmo fare un disegno invece sapete cosa potremmo fare potremmo fare un disegno carino e mettere l'incudine qua in mezzo sì 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 mi è piaciuto a me è piaciuto questo questo lampo di giugno che mi è venuto adesso mi è piaciuto il problema è che il legno è quello lì quello della giungla che è più chiaro se dovrebbe essere quello della giungla quindi trasformiamo tutto il legno della giungla in ok 64 ci bastano penso proprio di sì queste li riseminiamo dobbiamo allargare anche questa forma di alberi signori decisamente sì dobbiamo dobbiamo espanderla in quella direzione di là in qualche altro episodio non tutto subito sennò che senso ha che senso ha ci perdiamo tutto il fascino di fare i nostri episodi con molta calma allora o non casca abbiamo questo di qua noi potremmo fare facciamo quello che realmente mi interessa a me allora abbiamo dobbiamo seguire questo disegno del disegno è uno di qua ok poi questo così ok poi questo che si affianca ok e poi parte tutto quanto il lambara d'anna mettiamo a fianco questi di qua così abbiamo 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 un disegnino signori almeno è qualcosa di carino dai così dai così ora poi vi devo far vedere anche un'altra cosa con molta calma e non scialanza e lo chiudiamo però questo disegno come cazzarola devo fare 121 che rientra poi uno che espande e 3 quindi uno che rientra uno che rientra uno che espande no ho già sbagliato vedete non so manco fa i calcoli io delle cose mie non so neanche fare io i calcoli delle cose mie devo leva quel basso punto scopo devo fa così ma perché soltanto scemo uno così uno così e poi questi tre li dobbiamo levare leviamo a mani nude sì signori li leviamo a mani nude perché noi siamo forti e perdiamo i pezzettini di legno beh beh siamo forti e perdiamo i pezzettini di legno e ci viene preciso preciso signori bello così mi piace lo possiamo anche replicare da questo lato di qua no vabbè lo lasciamo così tipo tipo balconcino però mi fa un po cacare così scusatemi decisamente sì dobbiamo semplicemente leva questo penso penso forse abbiamo leva questo mettere questo di qua sì l'abbiamo replicato forse questo dobbiamo leva no io due di qua quello a fianco e poi la striscia dobbiamo leva questo dobbiamo leva questa striscia di qua dobbiamo levare questa striscia allora intanto andiamoci a fare una cetta perché sto già smattando rompere il legno a mani nude è una gran rottura di scatole allora dai così facciamoci una cetta in ferro bello ok allora signori poi altro aggiornamento altro aggiornamento come potete vedere lì c'è una cesta perché c'è una cesta lì per il semplice fatto che quale cazzo doveva due quindi tre dentro ok mentre doveva questi qua ok questo questo ok quello abbiamo perso ma lo recupereremo lo prometto e per ora mettiamo questi per ora mettiamo questi di qua poi poi vediamo è così abbiamo questo questo spazzetto molto carino e coccoloso in cui abbiamo il nostro centro preciso che questo di qua in cui andiamo a mettere l'incudine che spero che il ferro si sia sistemato abbastanza si sia colto abbastanza da poter vendere blocchi mi basta fare un incudine penso di sì penso di sì 1 2 e 3 ok è così abbiamo queste dovremmo dover mettere così e poi 1 2 3 e 4 giusto perfetto dagli e così e abbiamo la nostra incudine signori e questo è un gran progresso questo è un gran progresso perché con l'incudine possiamo fare intanto della mettere possiamo ho perso l'arco porca miseria con la morte signora abbiamo perso l'arco l'unica cosa interessante che avevamo per poter vabbè da ormai l'abbiamo perso detto questo recuperare questi alberelli e questa mela che è importantissima la mettiamo qui stiamo a fare la raccolta delle mele perfetto allora questo legno non ci dovrebbe servire più questo ce lo teniamo ok le torce le rimettiamo in mano perfetto questo ferro lo teniamo di qua e stavo dicendo questo di qua c'è una cesta in cui c'è tantissimo pietrisco di ardesia profonda signori e dei blocchi di legno e ci manca qualche altro blocco perché signori dritto per dritto in questa direzione tra domani tra l'episodio di domani e dopo domani andremo a creare il mob sponer perché si abbiamo bisogno di formare esperienza farmare esperienza come se non ci fosse un domani ora raccogliendo tutta questa pietra diciamo ho trovato dei diamanti che però non ho raccolto perché voglio incantare un piccone con fortuna 3 dopo di che andiamo a prendere i diamantozzi che ci sono messi la così quantomeno abbiamo una bella scorta 7 ce l'abbiamo di qua io ne dovrei aver trovati 9 con un piccone fortuna 3 diventano tanta roba abbastanza devastanti cosa ci serve ora per l'altra piccola farm di lava signori per l'altra piccola farm di lava ci serve il sacchiello di lava se no non andiamo nessuna parte questi di qua che però me ne prendo solamente uno prendine uno e lo metti qui ok e poi ci possiamo mettere questi blocchi di quasi ci mettiamo no non mi piacciono questi blocchi qui ci mettiamo i blocchi del netherrack così anzi facciamo un po c'è qualche blocco della netherrack signori dai così facciamo qualcosa di più carino per ora me ne serverebbero solamente 4 8 12 16 16 lingotti di 16 li ne ho 14 non mi basteranno mai dobbiamo aggiungerne qualche altro dove li ho presi da qua da qua me ne servono altri due si lo facciamo molto stretto e poi poi lo lo modifichiamo intanto in tutto questo il sole sta calando direi di dormire in maniera tecnico tattica e intelligente sempre se mi fa dormire se noi dormiamo sempre con la porta aperta tanto qua sopra non ci viene a trovare nessuno manco il postino ci viene a trovare questo siamo sperduti mentre la cuoce noi la lava ovviamente dobbiamo farla giù sarà l'unica struttura che andremo a fare giù al piano terra signori perché se mo mi piglia fuoco casa perdiamo tutto dove la facciamo io direi in un posto abbastanza carino e sicuro direi di poterla fare anche qui che dite ci allarghiamo un pochino qui e poi facciamo un sentierino grazioso e la facciamo da questa parte di qua così non ci sono alberi vicino non dovremmo rischiare che prende fuoco niente almeno si spera ah in tutto questo nella nuova spedizione che ho fatto per andare a cercare il 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 ferro abbiamo peccato delle altre uova che ora proveremo a lanciare signori vediamo vediamo cosa succede allora allargo velocemente questa zona di qua così perfetto ora con calma con calma la studiamo signori perché con calma la studiamo perché perché intanto mi serve un calderone che me lo stavo dimenticando piccolo piccolo particolare mi serve un calderone mi serve un calderone che dobbiamo andare a fare e se forse si fa così perfetto e anche il calderone ce l'abbiamo vedete quanto ferro se ne sta andando cosa abbiamo ferro calderone lava e l'ingotto di qua perfetto mi manca solamente la netherrack che sta giustamente cuocendo ok ma siamo quasi pronti anche con quella scendiamo gli era andato nel nether per cercare la la soul sand per poter fare un ascensore ad acqua qua di lato così salivamo subito velocemente siamo morti male signori e non c'è un punto vicino casa nostra in cui vicino dove abbiamo noi il portale in cui c'è la possibilità di avere uno di quei biomi in cui trovi la 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 cosa praticamente impressionante allora facciamo un attimino mente locale a me serve che qui ci sia il coso giusto si qua ci deve essere quindi io faccio così e questo lo devo poter attaccare qui è giusto perfetto ora 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 allora allora mi sa che la netherrack non ce la mettiamo signori la netherrack fa dobbiamo fare una cosa così così qui ci mettiamo la netherrack ok ok va bene anche ci sono ci sono ci sono ci sono un attimo di mente locale ma ce l'abbiamo fatta signori un attimo di mente locale ma ce l'abbiamo fatta e sono andato in confusione per creare sta cretinata pensa per fare il mob spawner quanti bisogni ci vorranno ma ci riusciremo signora cosa grazie se poi il mob spawner non funziona però ho visto una 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 come si chiama un tutorial in cui in cui praticamente nella versione lo costruisce nella versione 1.19 quindi in teoria signori in teoria dovrebbe funzionare vedremo prossimamente cosa succederà vedremo prossimamente se ci riusciremo allora io direi questo lo rompiamo un attimino questo lo rompiamo ok questo lo rompiamo ci mettiamo questo così perfetto questi li leviamo tutti che non mi piacciono ho il piccone in pietra quindi vado lentissimo signori però fate fate chiedo chiedo perdono chiedo perdono per il piccone in pietra però è un discorso che è un discorso che ripeto allora lì ci deve essere quindi direi facciamo in primo giro tutto così perché qua veramente no ok qua ci dobbiamo mettere questo ok qua ci dobbiamo mettere questo ok qua ci dobbiamo mettere questo e qua mi ci metti un attimo queste mi ci metti questo dico ok ora in teoria Allora, questo si può levare, piccone, questo si può levare, questo si può levare Penso che anche questo si possa levare, questo si possa levare, questo si possa levare, questo si possa levare Questo si possa levare e anche questo di qua si può levare Perfetto, ok Ora, se io metto questo qui, così E poi sopra ci mettiamo la nostra lava Qua dentro ci mettiamo la nostra lava Ora, da qua dovrebbe iniziare a gocciolare goccioline di lava, signori E col tempo questo calderone si riempirà e noi avremo la nostra bellissima farm di lava Dopodiché, appena riesco a fare un secondo secchiello di lava, ci allargheremo un pochino anche da quel lato Così, in modo tale da non avere problemi Io però metterei una slabettino lì Perché ho paura della lava, signori, sinceramente Ho paura della lava Quindi, per non sapere né leggere né scrivere, noi ci mettiamo uno slabettino sopra Così pure se piove, non succede niente di grave Niente di grave Facciamolo intanto di pietra, lo slabettino Chi se ne frega Va bene così, in maniera molto semplice, brutta Perché di questa non potevo farlo, no? Di questa non lo potevo fare No, infatti non lo potevo fare Va bene, ok Mettiamo lo slabettino di pietra Non perdiamo tempo Ok Poi, qui con calma, signori Secondo me così già è fattibile Dobbiamo fare una cosa però Onde evitare problemi vari ed eventuali Perfetto Questo lo leviamo Penso che il piccone si distrugga No, un piccone ha resistito La lava continua a uscire, sì Perfetto, signori Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video Molto semplice ma veloce e indolore E noi ci vediamo domani In cui inizieremo, penso, la costruzione del mob spawner, signori E piano piano inizieremo a vedere di fare questa grande costruzione Che ci vorrà un bel po' di lavoro, signori Un bel po' di lavoro Però ci siamo, ci siamo Bella, raga Ciao